ed eccoci qua, bel ribaltamento del c***o e adesso proviamo a ritornare su dopo aver messo la seggela di traverso così non mi decolla, speriamo e ora ci proviamo, let's see, che c***o succede? ok, qua ci siamo no, non li direi, ah, eh un c***o 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 sicurezza e poi mettiamo il c***o male e poi mettiamo il c***o e poi mettiamo il c***o male e poi mettiamo il c***o male e poi mettiamo il c***o male e poi mettiamo il c***o male